Amici sportivi ben ritrovati qui nel salotto dello sport di casa vostra, oramai avete preso fissa dimora qui negli studi di sport in casa, negli studi di Rete Veneta e noi siamo solo che felici per noi è un piacere, è una responsabilità continuare a tenervi compagnia cercando di portare a casa vostra tutte le novità, le indiscrezioni, gli aggiornamenti e la cronaca sportiva nonostante il periodo non sia chiaramente dei più facili. Parliamo di calcio questa sera, facciamo un tuffo nel mondo del Bassano, quindi parliamo di eccellenza, parliamo di una delle realtà più importanti del nostro panorama calcistico insieme al direttore sportivo del Bassano Cristian Giacometti. Buonasera direttore. Buonasera Alex, buonasera a tutti. Il direttore è una nostra affezionata conoscenza, insomma ogni tanto noi facciamo il punto della situazione in casa Bassano insieme al direttore Giacometti e ti chiedo direttore come prima cosa se sei d'accordo su quello che è stato un po' pianificato dalla federazione, ovvero dicembre si possono riprendere a fare gli allenamenti individuali, parliamo di prime squadre, gennaio è il mese dedicato ai recuperi delle partite non disputate causa Covid e poi dal 7 di febbraio o comunque dai primi di febbraio i campionati dovrebbero ripartire con la formula solo girone d'andata più playoff e playout. Non è ancora ufficiale perché si parlerà anche di modifiche e ne parleremo insieme in questa trasmissione però in linea di massima sei d'accordo su questa scaletta? Beh direi di sì, almeno siamo sicuri di riprendere che il virus è andato via perciò si è andato via oppure si è tornato un attimo il discorso virus, certo sarebbe un programma già interessante, ripeto vuol dire che possiamo riprendere a giocare, fare il prossimo mese di dicembre e fare gli allenamenti dopo i recuperi, noi abbiamo anche due recuperi da fare e ripartire col campionato, sì io ritengo che ci possa andare sicuramente su questa linea, poi vediamo perché giorno per giorno si sviluppa delle situazioni diverse, vediamo però sicuramente è un'idea interessante. È chiaro che la situazione, ha fatto bene il direttore a sottolinearlo, è sempre costantemente legata poi a quella che è la realtà in cui viviamo, quindi l'evoluzione della curva epidemiologica però intanto cerchiamo di fare un po' di chiarezza, il Bassano quindi adesso come prima squadra cosa sta facendo? Niente, allenamenti individuali da casa mi sembra di capire. Sì, noi facciamo allenamenti da casa anche perché non si possono usare spogliatoi, docce eccetera, perciò noi ci alleniamo da casa, abbiamo un programma fatto del preparatore, del ministero, dello staff dove i ragazzi si allenano da casa e perciò sì, noi siamo dal 24 circa, insomma noi siamo fermi, purtroppo è così, in questo momento siamo fermi a questo discorso qua, poi vediamo, dicembre speriamo di ripartire. Parleremo dopo in chiusura anche di mercato, quindi non rimanete collegati perché il direttore sicuramente ci svenerà qualche nome, qualche trattativa, speriamo, in genere non si sbottona mai. Parliamo del discorso di scegliere questa formula di disputare solo il girone d'andata per una squadra come il Bassano che ha 10 punti in classifica con 4 gare disputate, 2 gare da recuperare, la prima in classifica nel girone A di eccellenza è il Vigasio a quota 13, quindi virtualmente, se facciamo i conti su un pezzettino di carta, insomma, il Bassano vincendo i due recuperi potrebbe anche ritrovarsi già prima in classifica, però scegliere di disputare solo il girone d'andata vuol dire mantenere sempre la tensione e l'asticella altissima, non commettere errori perché una partita sbagliata può costare caro. Sì, sicuramente fare solo il girone d'andata non è proprio il massimo, perché giustamente come dicevi te Alex, se sbagli una partita o due recuperare dopo non è semplice, perché sono 11 partite, noi ne abbiamo due da recuperare, però 11 sono poche, insomma, se sbagli due partite non è semplice. Tempi tecnici per fare sia andata e ritorno per me è difficile perché vorrebbe dire giocare fino a fine giugno, ma forse non basta neanche. Non basta neanche, ti interrompo, scusa direttore, lo chiariamo ai nostri telespettatori, questa valutazione dipende dal fatto che il presidente del Comitato regionale Veneto, della Lega Nazionale di Letà Antiveneto, Giuseppe Ruzza, ha proprio in settimana parlato della possibilità, qualora ci fossero i tempi tecnici, di completare la stagione, quindi disputare tutte le partite giocando fino al 30 giugno con tanti infrasettimanali. Abbiamo chiarito giusto i connotati per contestualizzare quello che stiamo dicendo. No, ma infatti questo è un po' il discorso, perché giocare anche in infrasettimanale, tutti i ragazzi, come tutti, lavoriamo anche durante la settimana. Fare uno, due, tre turni infrasettimanali è un discorso, ma farne di più, già che dobbiamo farne come stagione normale programmata quattro, adesso metterne di più è complicato per tanti naturalmente perché siamo dall'eccellenza in giù, non dico quasi anche la serie D, però dall'eccellenza in giù si lavora tutti, perciò non è semplice fare anche i turni infrasettimanali. Vedo un po' complicata arrivare a fare fino a giugno andate rettono, per me sarebbe la cosa ideale e così al tempo anche se sbagli qualche partita, perché può succedere su un campionato, di poter recuperarle, vediamo insomma, la vedo un po' dura questa sicuramente. Ecco la condizione per giocare tutte le partite, come ha precisato proprio Giuseppe Ruzza in una nostra recente chiacchierata, dipende dal fatto che la curva epidemiologica si attenui, che si torni un pochino a quei livelli che si registravano a agosto, settembre, quindi quei dati lì, che ci siano quindi tutte le condizioni per poter giocare in sicurezza e che le società approvino questa scelta. Verrà indetto una specie di sondaggio per chiedere alle varie società se sono disponibili a completare l'intera stagione, giocando appunto fino al 30 giugno con i turni infrasettimanali, eccetera. A proposito di sondaggi però, mi viene da chiedervi una cosa, voi come società, non solo il Bassano, ma la stragrande maggioranza delle società di eccellenza e non solo, quando quest'estate siete stati interpellati dalla federazione sul format dei campionati avete votato quasi all'unanimità la formula dei gironi a 18 squadre. Siete un po' pentiti di questa decisione? Beh, pentiti no, però tornando indietro non è stata proprio la soluzione ideale, perché 18 squadre vuol dire appunto 4 turni, come dicevamo prima, infrasettimanali e pensando che adesso, Manico, col virus che purtroppo in questo periodo qua è andato a peggiorare sicuramente si faranno altri turni infrasettimanali come abbiamo già fatti, non è stata la soluzione, però adesso, non è stata proprio la soluzione ideale, perché 18 squadre vuol dire, ripeto, fare 4 turni infrasettimanali minimo, allora non lo so, tornando indietro molto in mente mantenendo le 16 squadre sarebbe stata forse la cosa più giusta, oppure fare 3 gironi a 12, ecco, magari era la cosa più giusta, però adesso è così. Diciamo che quest'estate ha prevalso la voglia di calcio. Esatto, più che altro la voglia di calcio, la voglia di ripartire dopo mesi fermi e questa forse è stata la cosa che magari si facciamo così, però tornando indietro forse la soluzione era diversa da prendere. Restiamo a ragionare sul format di disputare solo le gare d'andata nel 2021 e di poi lasciare spazio ai play-off e ai play-out, però ragionando sulle gare del giro d'andata, le due del Bassano che deve recuperare più le altre 11 da disputare sono insomma 12-13 gare da giocare. Ci colleghiamo al mercato, fare mercato e avere una rosa così importante, sapendo di giocare così poche partite, ha senso? Io intanto, Alex, sposterei il mercato a gennaio come nei professionisti, perché adesso fare il mercato adesso che siamo fermi e non ci sono stati… Infatti è difficile anche poi. È difficile perché giustamente non ci sono stati dei valori, cosa puoi dire? Questo ha fatto bene, dobbiamo intervenire. Noi abbiamo fatto solo quattro partite, gli altri ne hanno fatto sei, però non c'è un dato da poter dire cambiamo qua, sicuramente io lo sposterei a gennaio, forse non cambia neanche niente perché dicembre-gennaio non hai giocato, fare il mercato adesso secondo me quest'anno non ha neanche senso a dicembre, abbiamo finito il mercato… Si è chiuso il 31 ottobre, no? Un mese fa, forse anche se no, neanche un mese fa, perciò non ha neanche senso fare il mercato adesso. Infatti un direttore sportivo come può valutare la bontà della sua rosa e anche capire i rapporti con gli avversari, con le altre squadre che si contendono nel primato avendo giocato solo quattro partite, avendone viste a spezzatino 5-6 da una parte, 3-4 dall'altra insomma non è facile. Si, non è facile perché non hai un dato, non hai un valore, per quanto ci riguarda noi possiamo essere contenti, siamo partiti bene, abbiamo fatto bene, andare a intervenire su cosa, dopo per carità, se c'è, come tutte le società, dobbiamo essere sempre vigili, eccetera, però non hai un dato, un valore per dire cambiamo qua perché ne abbiamo fatto male, 4 partite sono poche insomma. Ti chiedo direttore se come è successo in tante altre realtà delle tantistiche anche a Bassano qualche giocatore della prima squadra ha paventato l'ipotesi di smettere di giocare, di ritirarsi per questa stagione proprio perché con l'attuale protocollo, lo diciamo sempre insomma, c'è l'isolamento fiduciario di tutto il gruppo squadra in caso di un giocatore positivo, quindi si rischia di rimanere a casa dal lavoro anche stando bene, anche solo magari essendo entrati in contatto con un giocatore avversario di una squadra che ha a sua volta un solo positivo. Insomma, a Bassano tutto tranquillo, nel senso che nessuno ha detto io non me la sento più di giocare. No, no, per quanto ci riguarda noi, a noi no, per questo no, sicuramente. Certo che non è una situazione semplice perché giustamente bisogna capire anche i ragazzi, come dicevo prima, si lavora tutti, perciò se questo protocollo è difficile in questo momento perché giustamente se uno è positivo, va in quarantena tutta la squadra, tutta la dirigenza eccetera, non è semplice. Per questo che vogliamo anche provare a cambiare con questa lettera famosa, no? Perché giustamente uno non può andare in quarantena tutta la squadra, tutta la società, tutta la dirigenza se c'è un positivo. Comunque adesso vediamo, c'è stata questa lettera, adesso vediamo come... La lettera di cui fa riferimento il direttore Giacometti è una lettera che hanno sottoscritto la stragrande maggioranza insomma delle società dilettantistiche qui del territorio, una lettera inviata alla federazione dove le società chiedono cambio del protocollo, quindi derubricare l'isolamento fiduciario per tutto il gruppo ma mandare in isolamento solo i calciatori positivi, l'introduzione dei test rapidi per uno screening costante insomma dello stato di salute insomma dei giocatori e una forma di sussidio, di supporto maggiore da parte della federazione per quello che riguarda sia i costi sia le polizze assicurative. Insomma è grosso modo spiegata in soldoni questa e voi siete stati fra i primi a firmare questa lettera perché giustamente insomma credete che questi due o tre step siano fondamentali per ripartire? Ah beh questi sì Alex come hai detto questi sono tre step fondamentali perché se si vuole ripartire questa è la base naturalmente perché giustamente come dicevo prima non si può mandare in isolamento tutta la squadra, se uno è positivo va lui, giustamente dopo si fanno i test come dicevi test rapidi e va in isolamento solo quello che è positivo o quelli che sono positivi naturalmente perché sennò non puoi cominciare a giocare neanche a gennaio ma neanche a febbraio naturalmente quello che come la penso io allora si devono fare e speriamo adesso con questa lettera qua che la federazione provi a spingere sotto questo cambiamento di protocolli e vediamo insomma ecco. federazione che sicuramente si è data tanto da fare quindi dobbiamo anche chiarire questo insomma è una situazione di emergenza anche per loro oltretutto la battaglia chiamiamola così per cambiare il protocollo è una delle cose che il presidente Ruzza e il comitato regionale Veneto, la Lega Nazionale dei Tanti stanno portando avanti. Abbiamo ancora 30 secondi quindi ultima domandina velocissima al nostro direttore sportivo abbiamo parlato di mercato abbiamo detto che è difficile farlo in questo momento però se c'è un reparto in cui il direttore sportivo vorrebbe piazzare un colpo quale potrebbe essere? Guarda Alex come dicevo prima non è facile adesso fare il mercato anche perché abbiamo fatto quattro partite perciò siamo messi bene siamo partiti bene sicuramente come società come Bassano noi siamo vigili su tutto intervenire su un reparto non vedo neanche il bisogno se devo essere sincero perché ripeto siamo partiti bene dopo se c'è l'occasione che si libera qualcosa che si muove come tutte le società allora si può sempre fare qualcosa però dirti un reparto dirti qualcosa io sono contento da come siamo partiti perciò a oggi siamo fermi così insomma Insomma chiameremo il direttore a commentare i prossimi acquisti del Bassano perché sicuramente qualcosa verrà fatto sicuramente Ma vediamo ecco vediamo Allora io ringrazio Cristian Giacometti per essere stato in nostra compagnia questa sera ringrazio la società Bassano per la disponibilità ringrazio come sempre tutti voi che ci seguite sempre più numerosi l'appuntamento lo sapete alle ore 20 e qui su Rete Veneta con Sport in Casa grazie e buona serata a tutti Grazie e buona serata Grazie a tutti